E' partito oggi il progetto Web White and Black per la sicurezza digitale che coinvolge 120 alunni della scuola media Patini e le prime classi del liceo e del convitto Cotugno. Un progetto che ha come obiettivo quello di insegnare ai ragazzi che passano tante ore su internet ad usare questi strumenti in modo consapevole e social compresi a difendersi dai pericoli del web al tempo stesso. Un progetto realizzato dall'associazione Agape è stato sposato dal comune dell'Aquila grazie all'assessore all'innovazione tecnologica Maria Luisa Ianni. Nella biblioteca della scuola Patini l'iniziativa è stata illustrata dalla dirigente scolastica del Patini Gabriella Liberatore e dalla dirigente del Cotugno Serenella Ottaviano assieme alla dottoressa Chiara Gioia dell'associazione Agape al vice sindaco Daniele e all'assessore Ianni appunto. Obiettivi del progetto l'educazione, l'informazione e la formazione per il corretto uso di tecnologie con tematiche che vanno dall'adescamento online al cyberbullismo. Con questo strumento i genitori avranno la possibilità di conoscere attraverso il ritorno delle risposte del questionario di sapere quali sono, qual è il tempo perché i giovani fanno la dad, i giovani stanno su internet quando stanno con gli amici, i giovani utilizzano la rete in qualunque momento quindi i genitori molte volte non sanno effettivamente qual è il tempo di utilizzo. Il secondo step è quello poi di vedere i propri ragazzi, probabilmente fare loro delle domande ulteriori che generalmente i ragazzi non condividono con i genitori l'utilizzo della rete. Come dicevamo prima, soltanto un ragazzo su quattro dice alla propria mamma o al proprio papà o alle figure più vicine adulte che sono vicino a loro quali sono gli strumenti che utilizzano. Probabilmente i genitori avranno un ritorno in questo senso perché i ragazzi si sentiranno spinti, sollecitati a condividere con i genitori le cose che hanno conosciuto sulla rete. Lo step finale che è quello poi del ritorno del feedback genitoriale e alla scuola serve per identificare gli eventuali bisogni che sono usciti fuori da questo lavoro. L'intento del comune è stato quello di mettere un campione di almeno 120 ragazzi su una popolazione di ragazzi tra 8 e 18 anni di 6.400 unità affinché noi avessimo un risultato vero dei numeri che potessero essere rappresentativi, sebbene estesi, di quelli che sono i bisogni in questo ambito. Il primo argomento trattato sarà quello del grooming, dell'adescamento virtuale. Con la dettoressa Gioia saranno coinvolti l'ingegnere informatico Cristian Franciosi e Ugo Capezzali che concluderà con i ragazzi il progetto di educazione e formazione attraverso una rappresentazione teatrale.